Vengono rinviati o cancellati ormai con drammatica regolarità i turni di erogazione idrica alle varie utenze. Le ultime segnalazioni alla nostra redazione in tal senso provengono da Contrada e Sabella e alle telefonate di richiesta di chiarimenti da parte dei cittadini a Girgentiacque ormai non risponde più nessuno. Si tocca sempre più con mano dunque la situazione nella quale è precipitata il servizio idrico integrato in provincia di Grigento. Quello che rimane di Girgentiacque, società giova ricordarlo sottoposta a procedura fallimentare in atto, è ormai ben poco. Anche oggi Francesca Valenti è corsa ad Agrigento per incontrare il prefetto Maria Rita Cocciufa e entrambe sono in collegamento con l'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri. Il commissario di Girgentiacque e Gervasio Venuti sembra ormai in procinto di alzare bandiera bianca. Non l'ha ancora fatto per senso di responsabilità naturalmente ma anche perché lo scenario alternativo sarebbe un autentico far west. Oggi cittadinanza attiva e procuratore dei cittadini parlano di criticità che stanno mettendo in pericolo uno dei diritti sacrosanti dei cittadini ovvero sia l'uso dell'acqua elemento indispensabile per tutti noi. Situazione attuale notevolmente peggiorata rispetto a quella del passato che sicuramente non brillava e gli effetti della procedura fallimentare non possono certamente ricadere sui cittadini che in tutti questi anni pur pagando bollette altissime hanno fruito di un servizio che le stesse rappresentanze sociali non esitano a definire scadente, talvolta inesistente. E così per Pierina Di Martino di cittadinanza attiva e Nino Porrello, procuratore dei cittadini si sta violando il codice del consumo. Il tempo delle proteste e delle segnalazioni sui problemi connessi a trasparenza, qualità, efficienza e tariffe non si contano più e le notizie di questi giorni non sono certamente rassicuranti. Si invoca così il diritto ad un servizio puntuale ed efficiente e in tal senso la comunità si affida al prefetto chiamato a svolgere un ruolo di primo piano per garantire nella transizione verso la nuova azienda speciale e consortile che i cittadini non subiscono ulteriori danni e che vengono assicurati loro i diritti costituzionalmente garantiti anche nei confronti di una curatela fallimentare che induce a domandarsi se sia normale che un tribunale, quello delle grandi imprese di Palermo nella fattispecie, possa gestire il fallimento di una società senza tenere anche conto del tipo di servizio che la predetta società erogava. Soprattutto se quando la società fallita è quella che gestisce il servizio idrico integrato, timori che tempestivamente aveva sollevato lo stesso avvocato Giuseppe Massimo dell'Aira, uno dei commissari prefettizi che ha condiviso con Gervasio Venuti la gestione della società destinatari di interdittiva antimafia e ora al centro dell'inchiesta della procura di Grigento, quella denominata Waterlaw. Le conseguenze delle pretese della curatela fallimentare stanno seriamente rischiando di ricadere sui cittadini. Una giustizia dei cavigli dell'applicazione pedissequa degli articoli del codice non può disinteressarsi delle conseguenze del proprio agire nei confronti della comunità. Difficile accettare che un giudice delegato si possa occupare del percorso formale di un procedimento senza preoccuparsi anche delle conseguenze che quel percorso produce nei confronti della comunità. Oggi che quello che rimane della Girgentiacqua e deve pagare debiti, tra i creditori più importanti c'è lo stesso Marco Campione, non riesce a pagare più neanche le bollette del telefono e della luce. Il Tribunale fallimentare deve fare il suo mestiere, ma la gente ha pure il diritto di avere l'acqua, su questo non ci piove. Anche per cittadinanza attiva e procuratore dei cittadini occorre tutelare, i diritti costituzionalmente garantiti in quelle che sono le esigenze essenziali di oggi anche rispetto ai diritti economici maturati, prima dalla massa dei creditori di Girgentiacque rappresentati dalla curatela fallimentare. Rappresentanze sociali che guardano alla prospettiva di uscire da questa situazione, i problemi idrici in estate sono ancora più inaccettabili e che si riservano di edire le vie legali per ottenere indennizi, per aver pagato bollette illegittime le più care d'Italia alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Grazie a tutti.